Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui su Dragon Ball TKC3 Allora, andiamo subito a conoscere i prossimi due partecipanti a questo torneo Allora, devo andare con Gis, Gis3 e Gis4 E li andiamo a far combattere, vediamo un poco Vediamo dove posso andare a far combattere questi due Non saprei, qui dai, deserto medio, penso che si significhi, deserto medio E avremo Kui Kui contro Apollo L'energia è perfettamente alla pare, quindi scontro equilibrato Non so, in termini di forza nell'anime chi è più forte Forse Kui Kui, non lo so Io non penso a Apollo arrivi tipo a 18.000 Perché almeno nell'anime viene detto Che Kui Kui aveva la forza non a fare a quella di Vegeta Un potenziale di 18.000 Quindi non penso a Apollo arrivi a quei livelli Boom, 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 boom Eh, qui mi sa che Oh, però, oh, Apple Può ancora sperare Però secondo me vedo favorito Kui 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 Mi viene da dire Kui Kui come sta scritto No, è Kui 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 è l'altro Nomi simili E quello là Kui Kui è quello di Del mago Babidi Kui Kui è questo Comunque ha vinto lui Allora, i prossimi due concorrenti devo mettere Kui 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 Dovrebbe essere strafavorito Tanaka ha pure una sola attacca di energia Io ovviamente tifo Tanaka Ma non credo che salto seppure bustarsi C'è bisogno di bustarsi Dai Contro Tanaka Eh, peccato Oh, 12.100 Leva con quella mossa Ha capito Doviamo Ok Per oggi è tutto Dal prossimo episodio verrò a distillare Gli incontri rimanenti Perché non sono rimasti Se non faccio sbaglio Tantissimi personaggi E vedo quanti incontri mancano In modo di accorciare un po' Perché se continuiamo così Veramente Così almeno accediamo alle fasi finali Con già I vincitori di questi incontri E così acceleriamo un po' Quindi Per oggi è tutto Iscrivetevi al canale Cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti Possiamo farcelo Lasciate un mi piace Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video Bye bye